In collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, questa mattina nella Sala Massi di Palazzo dei Capitani di Ascoli, l'assessore regionale allo sviluppo economico Antonini ha presentato le iniziative di SMAU, che da 60 anni è divenuta una piattaforma che mette in connessione, in modo inedito, imprese, start-up, grandi player, abilitatori e istituzioni per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership. La Regione Marche è protagonista ormai da qualche anno nell'ecosema SMAU, è protagonista perché questo dell'innovazione è un ecosema che va oltre gli ambiti locali ma è minimo europeo. La Regione Marche ha imprese familiari da un lato, con grande determinazione, capacità di vincere le sfide, dall'altra parte ha anche tanti talenti, giovani, creatività, innovativa, questi due filoni sfociano in imprese che hanno bisogno di innovazione e start-up innovative. Questi due sono gli ingredienti degli SMAU oggi. Veniamo da uno SMAU Londra e siamo prossimo a uno SMAU San Francisco in cui le start-up della Regione Marche sono prime protagoniste, da cui l'idea di fare anche un evento di ritorno il 29 giugno ad Ascoli Piceno. Ascoli rappresenta esattamente lo specchio dell'innovazione in Italia, una perla sconosciuta, sconosciuta non a noi ovviamente ma ai nostri operatori internazionali, quindi siamo particolarmente orgogliosi di fare un evento proprio qui al teatro il 29 giugno e invitiamo tutte le imprese che hanno bisogno di innovazione, che sia un parrucchiere o che sia un'azienda manifatturiera da 300 dipendenti. L'innovazione è fondamentale. Finalmente siamo riusciti a portare SMAU con il suo carico di eventi e innovazione ad Ascoli il 29 giugno al Teatro Filarmonici. È una grande occasione per valorizzare le start-up innovative di cui la nostra Regione è particolarmente ricca. Infatti SMAU non a caso si muove in contesti dove appunto c'è una grandissima vitalità d'impresa, soprattutto legata alla creatività, alla tecnologia e all'innovazione. Quindi sarà un momento particolare dove tra l'altro verranno premiate delle start-up innovative legate al benessere, alla qualità della vita e in più ci sarà il premio SMAU proprio per l'impresa che marchigiana, non solo che porta più innovazione nel contesto, nel panorama imprenditoriale italiano.